Ancora oggi, se cammino per strada e sento un gruppo di persone che ridono, io penso, ma non è che stanno ridendo di me? In occasione della giornata internazionale contro l'omotransfobia, la città di Torino e la città metropolitana hanno promosso mercoledì 17 maggio al Teatro Astra un momento di incontro e scambio rivolto agli alunni e alle alunne delle classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici secondari torinesi. Dal titolo La scuola è per tutto, una platea affollatissima di ragazzi e ragazze che non si sono limitati ad ascoltare, ma sono intervenuti con domande, esperienze personali e inviti alla riflessione, in dialogo con amministratori e amministratrici della città di Torino e della città metropolitana, con Vladimir Luxuria. Io sono molto ottimista, io penso che il futuro sarà sempre più un futuro di amore, perché tutte le statistiche lo dicono, più si va verso i giovani più calano gli atteggiamenti discriminatori, omofobi, razzisti, misogini, cioè è chiaro che c'è ancora una parte che ha questi atteggiamenti, però rispetto al passato il futuro io lo vedo migliore e forse questi ragazzi potrebbero insegnare tanto a tanti adulti, che possono essere i loro genitori, ma che possono essere anche certi politici, che alla fine le persone omofobe, le persone misogene e razziste faranno parte di capitoli di storia che ricorderemo come quelli che erano contrari all'abolizione della schiavitù o contrari a dare il voto anche alle donne. Loro sono il passato, gli omofobi sono il passato, hanno polvere addosso, noi siamo il futuro. Iris Trombini del collettivo Identità Unite dell'Università di Torino. Come Collettivo Identità Unite offriamo uno spazio sicuro e uno sportello d'ascolto per tutte le persone che si sentono discriminate e allo stesso tempo facciamo attività di sensibilizzazione sia all'interno della comunità LGBT qui a PLAS sia all'esterno partecipando a manifestazioni come il Pride. Il tema centrale è l'idea di creare una società più inclusiva e capace di andare al di là di ogni classificazione delle diversità, anzi in grado di fare della fragilità una risorsa.